Ecco la ricetta sotto il nostro cagnolino. Facciamo una vellutata di ceci, prima abbiamo fatto una zuppa, adesso facciamo una vellutata, nel senso che la lasciamo un pochettino più liscia, meno cremosa e meno consistente, utilizzando sempre il preparato vellutata di ceci pedon, dotato di marchio spiga barrata, quindi adatto ai celiaci ma anche non, un po' di ceci, già cotti per decorare il nostro piatto e l'andiamo ad impreziosire con della bottarga che la andiamo a marinare in olio, sale, pepe ma con prezzemolo e un pochettino di peperoncino che ci darà del brio a questa marinatura. Visto che la bottarga è molto sapida e molto decisa nel suo sapore, cosa facciamo? L'andiamo a contrastare con del fico che leggermente caramelliamo. È un piatto diverso, un accostamento diverso fra frutta e pesce. Iniziamo la ricetta. Per prima cosa prendiamo il prezzemolo e lo andiamo a tagliare finemente. Lo tagliamo in una maniera grossolana, dopodiché prendiamo il nostro cioppino. Eccolo qua, lo conoscete già. La tagliamo finemente, giusto per non andare ad intasare, così si dice, le lame del Kenwood mini peamer che utilizzeremo. Lo mettiamo nel boccale. Un po' di sale e pepe. Un pizzico di peperoncino. E olio. Andiamo a frullare il tutto. Questa emulsione ci servirà poi per andare a marinare la bottarga. Adesso tagliamo la bottarga, in questo modo, abbastanza finemente con un coltello affilato. Non tantissima, per due motivi. Il primo è che è molto dispendiosa e il secondo è che è molto sapida. E la andiamo a marinare con la nostra emulsione. Olio, prezzemolo e peperoncino. Questa intanto l'appoggiamo in frigorifero e la rimanente emulsione la utilizzeremo poi per decorare il piatto. Quindi me la preparo di già, la metto in un biberon, come viene chiamato, anche se non è proprio quello che utilizzate per i vostri figli. E con questa poi andremo a decorare il nostro piatto con alcune gocce. Lo chiudiamo e lo lasciamo in frigo anche questo. Nel frattempo, lasciamo un po' marinare per una decina di minuti e noi procediamo con la realizzazione della nostra ricetta. Vi avevo parlato dei fichi, puliamo i fichi. In questo caso potete o già togliere la parte esterna o comunque lasciarla e inciderla leggermente. Io preferisco fare in questo modo. Guardate come. Lo tagliate prima a metà, dopodiché l'ulteriore metà. Poi sempre con un coltello affilato e casomai un po' flessibile, lo andate a sfilettare come se fosse un pesce. Sarà molto semplice, cercando di arrivare a quasi la fine ma lasciando intatto il vostro fico. In questo modo sarà praticamente sbucciato ma avrà anche il suo carattere nella presentazione. Questi li caramelliamo leggermente in padella con un po' di acqua e zucchero di canna. Mettiamo un po' di acqua nella padella. Ne basterà veramente poca. Accendiamo i nostri fuochi. E come classicamente si fa, la caramelliamo con un po' di zucchero di canna. Io lo preferisco sempre, cerco sempre di utilizzare laddove è possibile anche ingredienti integrali, come si dice. Anche perché ho avuto esperienze ristorative in ristoranti che avevano tendenze biologiche, naturali, gluten free appunto. E quindi ho questo tipo di richiamo mentale. Una cosa importante quando caramelliamo è quella di non bloccare, come si dice, il processo, andando a introdurre durante la caramellizzazione una forchetta, un cucchiaio dell'acciaio, perché blocca il processo. Quindi vi conviene sempre lasciare caramellare utilizzando la padella in questo modo, facendo dei movimenti, ma senza andare proprio ad introdurre degli accessori e degli strumenti da cucina. Lo lasciamo leggermente andare. Intanto io che cosa faccio? Prendo la vellutata, la mettiamo in pentola, tutta quanta, e poi la sciogliamo con acqua o latte. In questo caso utilizziamo l'acqua. Prendiamo una frusta, i primi 200 ml di acqua ci serviranno per rendere cremosa la nostra vellutata, i restanti 450 mg serviranno per continuare la cottura. A piacere, un cucchiaio di latte o due. Cercate di frustare bene proprio per evitare la formazione di grumi. Dopo aver raggiunto una buona dose di cremosità, possiamo accendere il fuoco e inserire la restante acqua. Sempre a filo, piano piano. Portiamo ad ebollizione la nostra vellutata, dopodiché basteranno ulteriori due minuti per renderla cremosa. Nel mentre caramelliamo i fichi. Li avevo già tagliati, come ricordate. Li andiamo a mettere in padella, in questo modo. Per renderli un po' caramellati e cremosi, grazie all'utilizzo del zucchero di canna e l'acqua. Molto semplice. Vanno da soli, praticamente. L'importante, come vi dicevo e vi ripeto, è non introdurre mai oggetti metallici, perché bloccano la cristallizzazione, diciamo, dello zucchero. Continuiamo il nostro processo di caramellizzazione e aspettiamo che la nostra vellutata arrivi in ebollizione. La vellutata di ceci è cremosa al punto giusto. Introduciamo a fine cottura un goccio di latte. Come sapete, io evito sempre l'utilizzo della panna. Il latte intero è perfetto per questo. Il latte ha piacimento, ovviamente. Se parliamo di intolleranti al lattosio, questo processo va evitato. Come vedete, i fichi sono caramellati al punto giusto, quindi io spengo anche questa pentola e siamo, direi, quasi pronti per impiattare. Nel mentre vado a riprendere la nostra bottarga, che è in frigo, se ricordate. Eccola qua. Quindi iniziamo per prima cosa nel versare la nostra vellutata all'interno della ciotola. Vedete com'è più liquida rispetto all'altra preparazione? È volutamente più liquida. La lasciamo raffreddare qualche istante e poi continuiamo l'impiattamento con la bottarga e i fichi. Se ricordate, io non ho utilizzato del sale qui all'interno proprio perché la bottarga è molto sapida, quindi quando andate poi a cucchiaiare tutto insieme è più giusto mantenere questo tipo di equilibrio. Per gli amanti del sale, un giro di sale, ovviamente. La nostra vellutata si è leggermente raffreddata perché era ustionante e finiamo di comporre il piatto con la bottarga. i fichi caramellati e completiamo il nostro piatto con pochissimo peperoncino. un po' di pepe richiamiamo i ceci questi saranno più che altro un abbellimento del nostro piatto. un peperoncino intero e concludiamo con qualche goccia di emulsione prezzemolo, olio e peperoncino un tocco di verde e il piatto è concluso. Una zuppa fantasiosa ceci, fichi e bottarga Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito!